Ciao a tutti cari amici di Celebrity Stardom, siamo entusiasti di presentarvi un video speciale dedicato a una delle influencer più amate, Antonella Fiordelisi, e ai suoi fedelissimi fan. Se ancora non vi siete iscritti al nostro canale non perdete tempo, iscrivetevi ora per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti esclusivi. Vi mancano i famosi buongiorno di Nellina? Una recente storia sul suo profilo Instagram ci ha fatto tornare in mente i suoi calorosi saluti mattutini, e in risposta a questa nostalgia abbiamo preparato un video speciale dedicato a tutti i momenti in cui Antonella ha fatto sentire la sua affettuosa presenza con i suoi buongiorno. Nel frattempo la nostra beniamina Antonella è alle prese con una nuova avventura, la partecipazione a reality game show Pechino Express. Questa esperienza è tanto divertente quanto costruttiva, non solo per lei ma anche per tutti i partecipanti. Imparare a vivere arrangiandosi e superare gli ostacoli e le sfide è una lezione preziosa che arricchisce il livello di autostima e il bagaglio di crescita personale. Siamo sicuri che Antonella Fiordelisi continuerà a incantarci con il suo entusiasmo, il suo spirito avventuroso e i suoi saluti al mattino. Dobbiamo solo aspettare il suo ritorno. Continuate a seguirci e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti Antonella e tanto altro. Grazie per esservi uniti a noi oggi e alla prossima! Grazie per la visione!